4 4 a casa frattesi a casa frattesi frattesi si quattro sono si quattro mai parlare prima caro frattesi mamma mia si vede che si pompe scritto che cosa vuoi fare come copiare a totti l'unico che si poteva permettere una volta quando vinceva 4 a 0 totti a tutoro 4 a casa capito ma 4 a 0 che fai frattesi vergogna di frattesi non vi sento ragliare per scritti sto godendo lo sai che per noi è stata la vittoria e per te sta una sconvitta ieri hai accettato il verdetto no minchieri ragazzi buongiorno innanzitutto buongiorno intenditori di emozioni e nulla comunque al di là dello sfotto al di là di tante cose facciazza di frattesi tutti prescritti a quattro e due dovevamo gestire l'abbiamo buttata come in zag non è più buono ora in zaghi auto fattene abbiamo visto l'inzaghi due anni fa visti come siete voi prescritti del web youtube giornale tutto così siete proprio tifosi di paraocche i paraocche quattro tiri quattro gol ma cosa avete fatto vuoi quattro tiri quattro gol scusa aspetta che se fu bello guarda l'ha detto pure il vostro allenatore pure che significa fare quattro tiri quattro gol perché a caccia devo stare così e posso capire che di solito si dice hai fatto io ho partito dominata hai fatto un tiro un gol così potete potete lo posso accettare che significa quattro di quattro gol che non posso tirare che significa che significa eh ma noi abbiamo tirato di più eh ma se vuoi non siete stati cinici sotto porta sai cosa è pure che noi abbiamo un getto di gregorio più forte del coci fiscale ma le pare ha azzeccato pure questo anche tanti guendini che vuoi vendicito paraocche è incompetente di gregorio più forte del coci fiscale ieri fici di quattro miracoli di gregorio sì se c'è così fiscale la storia noi perdavamo veramente così fiscale perdavamo 6 a 2 lì dite ragione interista quindi con cesao il nuovo Yamal io ho detto l'ho detto il nuovo Messi ma nessuno mi ha troppo esagerato ma hai capito ma hai capito il con cesao è forte io l'ho detto il nuovo Yamal per non divampare troppo ma quello ce l'ha giocato i messi quello è un folletto quello da riscattare subito io spero che l'hai riscattato dai Windows con cesao fenomeno e ad oggi è l'esterno più forte d'Italia da quella parte non c'è un con cesao che vedo ce l'abbiamo solo noi va bene quindi gli interisti ieri qua qua c'è restato ma che godura qua non vedo gli interisti soffrire da tanto tempo Inzaghi come con Magistrini a zero ma Inzaghi grande allenatore pareggiando Magistrini rimasto sulle ammarite noi siamo spuffotti anche in Europa ma che cazzo dice voi tra ballata difesa comunque dai di questa voi interisti che piangono ho visto anche Inzaghi che piange mi dice mamma perché mi mancano mi mancava i Cianalagri ah se ci fosse ah se c'era Cianalo ah se c'era se ah se tutti tutti i gol fuori erano ah se e se e se e se e pure se mio nonno aveva i tre palle erano flip e se e se anche io ti posso dire ah se c'era Bremen tu facevi quattro gol con Bremen ah se Danilo non faceva di minchia di due caccia di regola uno a meno e l'agri una minchia italiana si fu bella l'azione ma lui lui deve intervenire sulla palla ah e se e se non la rinvi a cazzo la Dumfries che ha nato che hanno crocifisso loro Dumfries l'agri praticamente si è trovato tu per tu Dumfries che Dumfries ah se Dumfries ma cava il se non segna vedi come se fossi che i paraocchi che i paraocchi a quarto minuto ti dico ancora quattro a quattro quarantaquattro gatti in fila per sei con il resto di tu quarantaquattro anni mi pare pare bolletta vinta siamo arrivati alla nona giornata mi pare sì nona giornata tre bollette vinte capito va 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 ieri ieri vai vai Napoli uno Lazio uno Atalanta uno Indri vence il gol Fiorentina Roma a gol meno male che a Roma vici il gol ma non c'è cinca uno vado anche ieri quindi ieri ti ho detto comunque ragazzo ora al dettagli tutto no anche noi nel nostro diciamo anche io ho poi criticato critica una motta nel senso io come fai a mettere a gatti ieri Danilo disastroso ma che stai partito tu a gatti devi mettere ma li vedo io con gatti mi sento al tipo non dico come breme ma vedi che è solito gatti con cioè gatti e caluro quella è la coppia vincente va Danilo va è pensionato Danilo Danilo secondo me soffre sto fatto di fare una panchina scusamente là c'era prima cosa c'era Allegri c'era praticamente il suo papino ma c'è chi vuole basta quello è un figlioccio c'è ancora di Allegri no ma vedi la motta non ti vede però purtroppo in quella partita forse ho saputo poi che ha litigato con gatti dici no ma c'è stato uno screzzo tra gatti e cosa e quindi per questo non l'ha messa infatti poi quando sta per entrare dice oh nervi tesi da loro due ma ragazze purtroppo motta comanda l'allenatore è quello eh anche i giocatori devono capire eccetto eccetto merda a gatti di giocare quindi molto è fatto una minchiata però vedi com'è ragazzi vedi mi ci metto pure io no anche il si per me allora ieri il si va a giocare prima prima no poi gatti fa giocare prima quindi io sono convinto con gatti l'intern non fa manca di giocaccia di rigore non non li sei non 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 li subisce non li subisce cioè ma ti rendi conto che l'intern ha quattro vero finito quattro a quattro ma su quattro gol due due fuori di rigore segnalo eh guarda questi sono dati importanti e poi a difesa che traballa l'inde capito noi purtroppo traballa in mancazza di breme ma l'inde dall'inizio dell'anno già con il geno c'è più chiaro di scoppolato quindi quando dicono gli ingiocabili sono più forti piano piano come ha detto un barrieremo quando venate equilibrato quest'anno eh perché mi dispiace che manca breme ora io ero più convinto lo scudetto senza breme ora è un grandissimo punto interrogativo perché a difesa è come se vuoi veri che ti vuoi dire manca c'è una locus eh i personaggi chiavi mancano e comunque ieri vi è mancato la Toro Martinez è veramente vergognoso quindi non c'è anche le palle di battere un caccio di rigore la Toro Martinez da pallone d'oro ma smettela veramente ma smettela veramente cioè non ha proprio non è coraggioso manco di battere un caccio di rigore faccio battere a Zelischi guarda capisco che Zelischi è più rigorista di la Toro Martinez però lui da capitano deve prendere le palle ci senti io sono la palle d'oro io mi devo prendere la responsabilità vergogna la Taro vergogna veramente capito Durami invece topo ripeto da noi disastrosi sono stati tutti i fagioli locatelli chiro là proprio da Danilo Danilo è un altro nuovo Alex Sandro ma ho un ricopeggio dell'ex Sandro guarda capito e voi disastrosi la Taro la Taro proprio ne parliamo proprio guarda la Taro mamma mia poi vabbè poi gliene hanno parlato giustamente perché ripartò Inter in zaga sbagliati i campi allora praticamente la partita alla fine è così in zaga sbagliati i campi Tiago Mota ha seccato i campi e quindi fino a 4 a 4 il resoconto della partita è questo alla fine io potessi anche d'accordo però Pavard tutto non me lo Pavard non me lo cambia ma cosa me ma poi cosa mette a fratte ma come frattesi che vi ha salvato il bucio di culo fino a l'anno scorso ha visto la scudetta ora ha fatto questo necchio buono come quindi quante cazzate che ho sentito quattro tiri quattro quattro tiri hanno fatto no quattro e chi fa dobbiamo tirare mamma mia ma questo lo dice un professore di in zaga c'è stai youtube capiscono un cazzo vabbè alla fine mi chiamai in zaga ma quattro di noi dobbiamo fare sei sette otto gol e vabbè ho capito e però a partita tu l'hai fatta pareggio tu l'hai fatta pareggio che fa che perché tutto Pavard in zaga e ne praticamente lì si che ancora stava in banchina meno male che il gioco veramente però vedi anche lì no tanti ventini mi dicono pare e se lì si giocava dall'inizio e magari non faceva un cazzo vedi alla finita la panchina li ha fatto bene e molto ha cercato i campi capito molto molto ieri diciamo gli è andata pure di lusso perché tu hai vlausci una volta che gioca bene ma che cosa io perdo quattro a tre e mi leva vlausci ancora mancava una ricimuta di più recupero sette otto un minuto ma che cazzo mi leva vlausci no ieri molto è stato pericoloso perché c'è andata bene perché lì si è entrato e ha segnato giustamente e vlausci giustamente l'ha cambiato e fu una serie levavo a daniele misagatti quindi fu una serie sei stato fortunato perché ieri se tu perdi noi diciamo tutte cose diverse oggi noi davamo bersaglia a motta perché dicevamo allora iliz tu praticamente metodo deve mettere all'inizio tiaco e vlausci tu non me lo cambi non vai giocare a daniele e metti a gatti tutti così diciamo no se perdevamo invece si vinceva l'inter grande enzai che ha sostituito i giocatori giusti bravo 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 siccome fisica ma tu non mi non mi metti però bistec la bistec la e l'altro la e frattese che cazzo deve mettere ma come ci siamo due squadre forte quindi la verità che ognuno vuole sembra ragione capito comunque come ho detto nei miei precedenti video bolletta vinta ho azzeccato ho azzeccato di gregorio più forte così fiscale l'ho detto l'ho detto ho azzeccato il consensato il nuovo yamal l'ho detto l'ho detto l'ho detto è fenomeno quindi su tre quindi quando cose che azzecco e più posso dire una cosa hanno in italia c'è sempre la critica insomma una volta che c'è finalmente l'inter juventus ci hanno degustato di questo caccio champagne di questo caccio alla premier o hanno criticato l'italiano medio purtroppo ragazzi c'è nella cultura manca hanno criticato a tutti chi è morta chi lì chi in zaghi chi uno dice una cosa uno dice l'altro ma capito finalmente ma ho detto una cosa cioè possiamo dire che grazie a inter juventus finalmente abbiamo assistito una bella partita e ma ci sono stati gli errori errori difensivi sì ma che v'ho detto ieri v'ho detto ieri ma io l'ho detto per fate ridere oh ragazzi diranno difese in bambola di qua e di là e alla fine non sono degustati questo caccio champagne questo caccio veramente super offensivo insomma succede manchester quest'anno c'è stato manchester di arsa 3 a 3 oh che grande caccio la premia c'è stato ieri proprio arsa lì per 2 a 2 oh che grande caccio ci fu ieri scelsi nel caccio di 2 a 1 perché il 2 a 1 è stato normale qui tutti quelli 2 a 2 3 a 3 lo fanno loro in premio che lo fanno qualche quattro cinque sei volte l'anno loro grande caccio ah che bel caccio beate l'inglese che vende caccio sciamba perché l'inglese questo voglio vedere o vince o peda meno me la gioco e come dico io ragazzi ma noi purtroppo in italia siamo la minima parte noi vogliamo soltanto il risultato il risultato il risultato conta sì ma per attraverso il bel gioco ieri alla fine io veramente alla fine sono orgoglioso di questa Juventus perché era attapirata tra virgolette che mancava un sacco di giocatore all'inizio ci mancava vero acerbi shana loclu e carlo acutis e su tre giusto ah non ne mancava ducas luiz bremen stagione finita cupo mex costa la rotta nico gonzalez amiche ci fa male e veramente amiche ci fa male da colostri che fu sempre che abbandona e tra virgolette anche c'è il milica di azione che potrebbe essere anche un vice vlau e a noi cico ce ne mancano ah poi lo metto poco bai che non ne ha giocato mai ma perché c'è il testosterone ma fossero quindi a noi alla fine mancava un sacco di giocatori però siamo andati a milano veramente ce la siamo giocata a meno ce la siamo giocata con l'inter poi ripeto sì è vero che poi alla fine l'inter va a fare 5 6 gol perché secondo tempo proprio ragazzi i primi vendimenti dell'inter proprio noi abbiamo trovato quel gol di ilis e ci abbiamo creduto con cesà veramente va fatto a ballare la samba cioè non ho visto mai un di mark in difficoltà non ho visto mai un bastone di difficoltà però con cesà vici a ballare la samba quello è un fenomeno va fatto a ballare tutta la difesa pure a mingatariane quello che ha fatto proprio pure a mingatariane cioè hai capito conto quindi quello è veramente forte meno male che ce l'abbiamo noi purtroppo ragazzi vero che mi sono speso 200 milioni dipende c'è fuori le entrate ma mettiamo caso fu 200 milioni anche se sono rate abili fino a 5 anni però se 200 milioni quando cazzo non gioca dove sono se 200 milioni tutti infortunati sono turam non lo so perché non lo mette pure turam lo vedo più forte di fagioli ci fottolo catelli tecchialmente è forte forse perché lento non lo vede e andando a peso turam da casa luiz un fantasma cupo me che si è rotto nico gonzale si è rotto e ragazzi 200 il caso 200 milioni purtroppo noi non l'abbiamo dall'inizio dall'inizio fino adesso noi già avevamo giocato con mancola con savona ma non è solo se 200 milioni capito è questa verità quindi ripeto la euendus può solo migliorare ieri alla fine tra l'allievo tra l'allievo anzi dal maestro quindi l'intel l'età superiore l'età anagrafica no e l'allievo una squadra praticamente nata ora ora quindi una squadra potenzialmente da 4 anni forte e la squadra nuova di motta vedete alla fine si sono annientate come raul e kenny guerrero le due fermate di oculto capito uno voleva governare il mondo come l'inde governiamo noi il mondo cavalotta lì e la juventus no noi vinciamo perché siamo gli onesti no noi dobbiamo ammazzare i disonesti capito noi siamo kenny guerriere voi siete il raul e per ora prima o poi kenny guerriere l'ammazzata dal raul è la stessa cosa tu viste mai film kenny guerriere uguale quindi ragazzi ripeto ieri alla fine si è criticato veramente siano ieri il 90 per cento della popolazione italiana tra youtube giornalisti come di calcio intenditori testa hanno detto praticamente difesa in bambo ha sbagliato in zaga ha sbagliato molto ha sbagliato qua la juventus a 42 ha mollato hanno detto un sacco di cose caccio veramente veramente schifoso da 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 olanda 2 no tutta così alla fine invece il 10 per cento quelli che si salvano compresi in barri palermo ieri dobbiamo dire grazie a l'inter e juventus ci hanno regalato finalmente un calcio emozionante come dice caressa caressa che ha detto ieri non mi fate vedere zero a zero non me lo fate vedere perché tutto il modo ci guarda tutto il modo ci ha guardato ha detto minchia capito che l'intero che ho messo 4 a 4 c'è anche la in premi spagnoli c'è minchia ragazze ma state attendo a questa cazza di intera cazza di juventus capito cosa ora perché loro non devono occupare che pensano non poco certo se non fossero ammariti il baccellone ma se si dico vabbè chi se scuola italiana cosa l'italiano fanno ridere catenaccia catenaccia quindi dobbiamo togliere questa politica del catenaccia questa politica l'italiana ma purtroppo c'è sempre questa mentalità basta risultato basta risultato vede c'è te li dicanti tezzo gode conte per una parola che dicono una zero una zero va bene così ci sta bene così loro ci diridono ma fino a poco tempo fa allora no scuola napoli caccio sciambava che che vincere una zero di scudette a me la in napoli ha vinto 4 5 a 0 e non roba caccio sciambano ora non è più buono caccio sciambano ora no va bene cosa vedi che di napoletane napoletane si è voluto vuolta bandiera quindi va allora va bene ora com'è va bene caccio ah il risultato racconta perché c'è conta capito comunque questo poteva essere un processo questo video vada c'è ieri la parte quella partita c'è da parlare da parlare comunque questa nella marco come si dice sarà collocata come una delle partite più pazzoide una delle più belle perché ripeto e fino a mai pareggio è giusto così attenzione quindi noi come supremazia a livello possesso palla juventus molto ma l'ind ha fatto più tiri in porta l'ind ha fatto sennò 9 tiri in botta ne abbiamo fatto 5 su 9 tiri in botta due hanno fatto gol con due cacce di rigore e noi su 5 tiri in botta 4 gol quindi noi purtroppo non siete stati cinese sotto porta perché mi manca la taro però la taro sembra così durante l'anno nu mese fa sempre flop il ragazzo non cazzo da fare e la sua indola ma ieri sbagliato pure una rocola ieri di testa che poi ieri di testa la palla era fuori l'aveva deviata pure la bastone la palla stava quasi entrando pure la culo stava segnando però meno male fu deviata poi l'ha buttata al duomo di milano ma anche ieri se l'ha buttata al duomo di milano puro eh ci fice un tiro fuori ragazzi comunque ieri di che gore è stato il migliore in campo Sommer purtroppo l'anno scorso Sommer ha detto un gran portiere però anche vero su Sommer arrivava uno due palle e li parava stavolta Sommer venne bersagliato e quindi è in fase di carenza Sommer comunque difese tutti i due in bambola ok però a noi perché ci manca Bremer voi siete questo invece anche con la cebbi tu all'inizio hai piccato da scappolato il golo quindi diciamo che ormai sai cosa ragazzi l'età così è come quando un ciclo dell'inde poi un anno è terminato poi sta terminando perché ormai certo non avete mai vinto una riscolta consecutive ma ormai l'età è troppo alta si deve abbassare l'avesso si abbassato tutto il mondo ingaggi il mondo età tutto tutto è normale l'avesso ha fatto un ciclo ora lì deve iniziare un altro ma l'avesso si spunterà per forza va a spuntare poi se picchiamo veramente due cenocampisti con i coglioni capito che ancora l'avesso manca due cenocampisti a noi alla fine ragazzi non potete muovere ancora con i fagioli con i coglioni, la cosa di locatelli ci vogliono 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 c'e'nò cambisti proprio forti da un De Bruyn un si va bene un Gianna Loco forte un che cazzo ci vogliono cambisti forti un De Sai un dove sono un Pyrlo dove sono ci sono cambisti Pogba, Marchio ci vogliono cambisti da forti, capito? Comunque staremo a vedere comunque Tra i tuoi litiganti, come ho detto ieri, il terzo gode. Il terzo gode è Napoli. Ma sarà da scudetto a scudetto? In Napoli ha soltanto una cosa buona, che non già coppe, non avendo coppe, ieri mi ha detto su Prestig, ho visto che a gennaio, febbraio, hanno una caterpa di partite tra la Champions League, su Napoli se non aveva 5-6, quindi in Napoli se quest'anno vince il scudetto tutti diremo perché non aveva la Champions League. E' più perché c'è Antonio Conte, sicuramente, perché Conte purtroppo è scudettato, non c'è niente da fare. Dove c'è Conte, Conte? O giochi male, giochi bene, purtroppo è sempre lui, e lui sempre comanda, e lui è bravo per queste cose. Conte ancora c'è qualcosa di più, in Zaghi mi chiede i Conte, ma che cazzo lì? Conte per ora è qua, in Zaghi è su, e Motta potrebbe però piano piano superare anche tutti questi due. Comunque, ieri, alla fine, oggi mi divulgo troppo, lo so, 20 minuti ma li devi ascoltare, ho detto tutte cose giuste, tutte cose giuste sul calcio, con Zesau, Bollet, Chirula di Gregorio, quindi sto dicendo tante cose che gli altri non dicono, ma non diranno mai. E comunque, ieri, dobbiamo, alla fine, abbiamo pensato tutti all'italiota maniera, ieri si è sempre giudicati, come in questo paese si giudica sempre, 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 invece, ieri, la minima parte, quindi, ieri, dobbiamo dire, grazie a Inter e Juventus, che ci hanno regalato un bello spettacolo, un spettacolo da premere, perché ieri poteva finire qualsiasi esultato, poteva vincere l'Inter, come poteva vincere la fine Juventus, perché la Juventus si davano altri 5 minuti di recupero, la Juventus non solo, ci ha recuperato i due gol, andava pure in vantaggio, 5 a 4. E poi, ieri, 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 e se, e se non c'erano, ripeto, a noi pure, a noi non c'erano, a breme, ma a breme, un punto c'erano, quando ti manca, quando ti manca, un mese, quando ti manca, poi rientra, qua a breme, tutto l'anno ci manca, capito, è quello fatto, capito, per questo io adesso per scudetti sono, moccati, ora vedi che il gol come riprende senza breme, ripeto, io con breme in campo me lo giocavo su scudetto, quest'anno, a cento per cielo, però, tutto sommato, c'è anche da vedere ancora, a gennaio magari l'ha messo a fare altri acquisti che ne sappiamo magari per un altro difensore magari per chi è il gran lucca che ne sappiamo ma ancora a gennaio le cose cambiano poi Totto voglio fare Totto poi facciamo un video Totto non vale mai ma perché lui l'ha 4 sta pensando frattesi 4 sono si frattesi 4 sono frattesi 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 ancora che succare latte frattesi eppure hanno scosso su frattesi non è stato mai criticato frattesi devi giocare di dolare un mese un mese l'ha sostituito ma cosa mette frattesi e che cazzo aveva metto fammi capire Marone tutti strani siete comunque complimenti alla fine a Inter e a Juventus ripeto che ci hanno degustato per l'ipirà ci hanno dato un bel caccio champagne finalmente come dice Caressa non voglio vedere più uno 0-0 uno a uno streaming zitto va bene così capito infatti dice che non mi chiami ma stranico ma preferivo un 0-0 mi metta gente proprio tarata proprio ancora perché questo hanno visto stamente in Italia il caccio quello vuoto vuoto ora non si è stato abituato ai cacci di vent'anni fa trent'anni fa perché poi una volta Inter e Juventus pure bella una volta mi ricordo quando c'è fu Buffon 2-2 finivo se sei tu fu città un gol pure belli erano Inter e Juventus capito una volta finì 4-2 con l'Inter contro Marquis ma ci sono stati i belli Inter e Juventus capito però questo è uno lo colloco proprio uno dei più forse forse è stato i più belli Inter e Juventus nella storia guarda è stato perché tutti potevano vincere è stata un Inter pazza una Juventus pazza un Inter che ha giocato a calcio un Inter che ha giocato a calcio proprio ripeto è stata una bellissima partita da ambe due parti è non male che sono due punti persi dell'Inter e due guadagnati noi questo sì perché per noi è stata alla fine tra virgolette a livello emotivo è stata una vittoria diciamo una vittoria a livello emotivo e l'Inter a livello emotivo è stata una sconfitta ma alla fine alla fine a livello giusto di classifica abbiamo guadagnato un punto io e un punto tu e ha goduto solo in Napoli turissimo te l'ho detto te l'ho detto stasera ci sono c'è il campionato infrasettimanale e vediamo di fare di noi i pronostici capito poi gente che mi critica hai vinto 50 euro 70 euro 80 euro intanto faccio la spesa intanto io e tu vincelo fai la bolletta tua che vinci tu no cazzo che vinci gli trovi gli anni che non vinga che punto ma io a parte che questi giorni si diverte con uno dei scommessi però alla fine alla fine andando su nove su nove risultati su nove su nove giornate su nove giornate ho vinto tre volte quindi imparare il mio intenditore ricordano sempre comunque vi saluto scusa se mi ho divulgato a 24 minuti di video mi fermo però ne dovevo dire tanta ripeto è stata una bellissima partita complimenti a Indri Penzi ciao